LocaliTour d'Autore LocaliTour d'Autore LocaliTour d'Autore LocaliTour d'Autore Ed inizia la nuova puntata di LocaliTour d'Autore, la numero 104 Tante notizie Ciao Alessandra, sei pronta per dire questa notizia di cinema? Certo, sono qui pronta apposta per te perché torna al cinema Tom Hanks con Non Così Vicino che racconta la storia di Otto Anderson un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini e però quando una giovane vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto l'incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa crea un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo quindi insomma, tutta da vedere una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati questo film è tratto dal bestseller L'Uomo che metteva in ordine il mondo e a me servirebbe un uomo che mette in ordine casa allora, ci sono io, non ti preoccupare, mettiamo intanto in ordine questa notizia che arriva direttamente da Sergio Fabi di Cinemotore.com partiamo subito, cioè subito la prima notizia, fantastico facciamo un po' di musica anche sono io, quella che ha girato il mondo quella che ha toccato il fondo quella che hai davanti a te sono io, che non ho perso mai la voce che è un cuore che non trova pace quando sta davanti a te sono io, su una fotografia ho fatto un sogno insieme a te fermando il tempo dentro a una canzone lasciando fiumi di parole io qui che sono entrata in casa tua senza bussare nella tua stanza grande come fosse il mare ad asciugarmi quella lacrima e sento addosso ancora sale sui miei capelli ho ancora calde le carezze le confusioni che si intrecciano amarezze e adesso provo a spazzolare via qualcosa deve emozionarci ancora grazie a te rivivo un'altra storia ma non perdo la memoria che siamo nati per rinascere e anche noi questo patto per la vita non c'è discega se non c'è salita è solo quando arrivi sai cos'è? quella forza di cantare perché senti dentro un fuoco e cerchi quella libertà che voglia di gridare e non ci sarà nessuno che ci potrà fermare il nostro sogno da sognare e anche se il tempo passa correva veloce nessuna vita è consumabile all'istante io voglio emozionarmi ancora ancora io qui che sono entrata in casa tua senza bussare nella tua stanza grande come fosse il mare ad asciugarmi quella lacrima io voglio emozionarmi ancora anche se il tempo passa correva veloce nessuna vita è consumabile all'istante io voglio emozionarmi ancora ancora un cordiale saluto a tutti sono Gianni Maritati direttore della festa del libro e della lettura di Ostia oggi parliamo di un libro che ci aiuta a compiere un viaggio insolito tra le bellezze nascoste o poco conosciute del bel paese lo propone Luigi Ferraiuolo nel libro Italia Sacra straordinaria e misteriosa Edizioni San Paolo Bisogna viaggiare con l'anima avverte prima di tutto l'autore per immergersi nel mistero e nel fascino delle chiese delle ossa o delle città sotterranee o ancora per immergersi nei segreti della Sacra di San Michele in Piemonte e poi dove si trova la spada di Re Artù e dove il cimitero degli eretici un'avventura legata insomma al ritorno alle sorgenti della nostra cultura della nostra storia ricca di sorprese, rivelazioni e scoperte va sempre con l'atteggiamento giusto quello di esploratori con l'anima appunto come li definisce l'autore cioè alla ricerca delle nostre radici spirituali come una radice che comanda sull'asfalto eri dentro la mia vita fino in fondo ma oramai sei il mio passato e devi averne conto come il burattino saluta il pubblico con un inchino lascio questa volta ho testa libero l'imbuto e i miei vestiti stretti che ora lascio in strada stringo forte i denti dargli il tuo saluto ormai non c'è dialogo se parli trovi un muro salto il fosso e via scavalco il mio cancello dono al vento gli anni e insieme il mio tormento lascio la mia immagine agli occhiali a specchio cerco il mio futuro cerco quello solo quello sento già che cambia l'aria la sento che profuma è solo da un minuto che ti ho perso e sono una una nuova vita una via infinita una nuova anima che cerca la sua uscita la sua uscita e mentre aspetto l'alba intreccio i miei pensieri verso un gran tappeto ricco solo dei miei desideri e mentre aspetto l'alba intreccio i miei pensieri verso un gran tappeto ricco solo dei miei desideri località dottore viaggio e vedo di gianluigi leoni sai che è questa agenzia di viaggi che ci porta a scoprire le bellezze dell'italia ci parla di benevento sai alessandra che benevento è la città delle streghe è nel cuore del sannio dove c'è la magia del tempo esatto la leggenda dice proprio che benevento si è stata fondata dopo l'incendio di troia nella storia nostra invece beneventus è chiamata così dai romani perché è stata fondata dagli osci c'è un monumento che è simbolo della città dell'arco di treiano un'altra meraviglia di benevento è il teatro fondato da treiano e poi da caracalla dove l'acustica ci dice maurizio costanzio nel 95 che ne prese la direzione è unica non ti vuoi fidare? mi fido però scusa mi stavi parlando di streghe a benevento c'è il museo delle streghe che conserva reperti raccolti di testimonianze della presenza di questo fenomeno misterioso e calcola che stiamo arrivando a Halloween è visitabile dal pubblico e però bisogna assaggiare il liquore che è la strega che è un ottimo prodotto del posto però l'incantesimo riesce bene soltanto nella località di Paduli che sta a 10 km da Benevento sulle sponde del fiume Sabato sotto l'albero di noce si porta in tasca un cioccolatino alla strega lo si dà al proprio amato e di gioco è fatto sarà nostro per sempre tesoro quanti cioccolatini alla strega ti ho dato no 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 senti lasciamo stare le noci e la stregoneria per il momento ma parliamo di prosciutto di pietra roia una lunga stagionatura di 24 mesi con la soppressata del sannio dove ci sono i maiali allevati a base di prodotti naturali tipo il mais, la crusca, le ghiande ce lo vogliamo fare un bicchiere? un goccino ce lo vogliamo fare? si ma io devo aspettare 24 mesi per mangiare il prosciutto non va bene 24 mesi di stagionatura cara mia mi butto sulla falanghina va la falanghina è l'aglianico sono due vini che sono micidiali su questa terra ma te lo fai un goccino con me? si si assolutamente si dopo che mi sono anche mangiato il cioccolatino alla strega e sai anche una cosa? dopo aver bevuto diversi bicchieri di falanghina Caligula parlava al cavallo te credo te credo che parlava al cavallo e secondo me il cavallo gli rispondeva pure locali tour d'autore locali tour d'autore su di 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 su 1997 a cantarla era una bellissima vocalist indonesiana naturalizzata francese dalla splendida voce Angoon figlia d'arte per la precisione del più famoso cantante e produttore di indonesia d'arto singo il suo nome significa grazia nata da un sogno e chiunque abbia presente la sua bellezza e il suo stile converrà che non sarebbe stato possibile chiamarla in nessun altro modo angoon ha inciso il suo primo album a soli nove anni ma la svolta è arrivata 14 anni dopo a parigi dall'incontro con alex caillé degli hoover phonic l'album snow on the sahara uscito anche in versione francese con il titolo o nom della lune ne ha fatto una star internazionale amatissima anche in italia ricordiamo il suo duetto con piero pelu l'amore immaginato e la sua performance sarremese con robbie francesco pacchinetti in vivere normale la sua popolarità nel nostro paese l'ha portata addirittura a ricevere sei anni fa le chiavi della città di firenze nel 2012 scelta dalla tv francese per rappresentare il paese agli eurovision song contest di baku ha presentato la canzone eco you and i che però non è andata oltre il ventiduesimo posto la bella angun non se l'è presa più di tanto solo un piccolo scivolone per una stana internazionale che ha cantato per papa wikiva ha duettato con luciano pavarotti ed è stata anche raffigurata nel museo delle cere di madame tusson c'è una luna d'argento che aspetta solo te anche le stelle d'incanto a braccia aperte per te la gente che ti sorride e neanche un filo di vento qui perché se il sogno è da vivere si beve tutto d'un fiato tu che ne hai passate di ogni forma e ne hai vissuto il colore di questa vita che è veloce chi si perde e cade dove il valore fa minuti e sembra un treno a carbone e le fermate sono mani di persone quante persone sono quante persone sono sole cosa ci provi a vivere così come bottiglie che non arrivano mai a destinazione ci vuole un cuore e un cartone e un paio di scarpe rotte sotto la luna stanotte lei si è vestita per te con la speranza nel cuore ti aiuta a farti innamorare ancora in questa vita che da soli non si può viaggiare si prende il treno senza annuncio senza indecisione arriva il giorno che aspettavi e non si deve tardare raccogli tutte le persone che sono rimaste sole quante persone sono quante persone sono sole cosa ci provi a vivere così come bottiglie sotto la luna d'argento anche le stelle d'incanto la gente che ti sorride perché il tuo sogno che vive tu che hai passato ogni forma di questa vita veloce dove il valore ha minuti e le fermate sono sole quante persone sono quante persone sono sole cosa ci provi a vivere così come bottiglie ci vuole un cuore un cartone e un paio di scarpe rotte sotto la luna stanotte lei si è vestita per te con la speranza nel cuore di farti innamorare ancora locali tour d'autore ma vogliamo raccontare ai nostri amici di locali tour d'autore il weekend maraviglioso che abbiamo passato a Firenze con gli amici dell'OGAE Italy assolutamente sì e li ringraziamo ancora perché è stata una festa fantastica è stata una riunione che si fa annuale per poter discutere per poter parlare dell'associazione ci siamo divertiti con loro e stiamo già pensando a delle iniziative che però non si possono dire quindi ringraziamo mistero non diciamo nulla non diciamo nulla manteniamo questo mistero ma diciamo che l'OGAE Italy che è il fan club dell'Eurovision Song Contest italiano è fantastico io dico meraviglioso fantastico e ci hanno veramente regalato tanto affetto una bellissima accoglienza e noi non facciamo altro che ringraziarli e alla prossima ragazzi ciao a tutti su locali tour d'autore bye attenti alle streghe prova a farci caso quando la pioggia arriva la senti subito profuma anche di te che già lontano sei ma almeno gli occhi tuoi sono un ricordo che non so lasciare più regalo così grande che dentro il cuore scorre e non si ferma mai amo con tutto il mio fiato sei il centro del tempo che non passa mai e Dio sto aspettando ti ho perso nel mondo che gira più forte finché non tornerai centesimi di pioggia su di noi ora conosco il suo valore di questo amore immenso io penso che non si spegnerà perché si illumina di eterno io ti penso e ci penso come fiamma che adesso scalderà la voce la voce di mia madre mio padre incontro luce quando tornerai amo amo con tutto il mio fiato sei il centro del tempo che non passa mai e Dio sto aspettando e Dio sto aspettando ti ho perso nel mondo che gira più forte finché finché non tornerai centesimi di pioggia su di noi è come un tuffo nel passato sotto un bello ancora caldo il primo bacio che mi hai regalato e le canzoni che ho cantato e dedicate solo a te quando tornerai quando tornerai quando tornerai quando tornerai quando tornerai quando tornerai centesimi di pioggia su di noi locali tour d'autorezza